Dopo alcuni anni di matrimonio, Giasone decide di ripudiarla per sposare un'altra donna, Lauce, una greca purosangue, non una barbara come Medea, e per giunta figlia di Creonte, re di Corinto. Ripudiata dal marito, Medea è ora completamente sola. L'unica sua risorsa sono i figli e, purtroppo, è proprio dei figli che deciderà di servirsi per trovare la propria vendetta.